Matera 2019 è un sogno da realizzare o una scommessa da vincere? È una scommessa che nasce da un sogno, è una scommessa tutta da vincere e tutta da costruire insieme. Quindi quando ti si dice Matera è, dove la inquadri? Nella progettazione, perché comunque da 50 anni minimo a questa parte, questa città, grazie anche al contributo di persone esterne si chiede cosa è e cosa deve essere, però per la prima volta questa città ha uno strumento per decidere da sé, da sé stessa, dalle proprie esperienze, capitalizzando anche quello che altri hanno detto di lei, di progettare da sola il proprio futuro e la propria immagine. E in questo progettare sola questo suo futuro, che colore le dai? Le do il colore della speranza, le do il colore verde, ma che può essere semplicemente una scusa alla fine, ma Matera è quello che vuole essere. Quindi nel colore verde della speranza ci si spera anche di riuscire a distruggere quella che è l'apatia e la noia che vige sovrana in questa città, come li sconfiggi, che proposte dai? Allora, secondo me l'apatia e la noia sono una scusa, l'apatia e la noia sono anche una rassegnazione molto facile dietro la quale nascondersi, perché c'è una consapevolezza di tutto quello che non funziona e di tutto quello che non va, però questa consapevolezza fin quando non è trasformata in progetto, in capacità di attuazione, di presa di possesso del proprio destino non serve a niente. Quindi potremmo anche riuscire a parlare di cultura in questo, e come riusciamo a canalizzare Matera in un discorso di cultura? Il paradosso di Matera è che generalmente quando uno si candida a capitale europea della cultura cerca di trasformare la propria immagine di città, perciò si sono viste città che volevano trasformarsi da industria a capitale, a città della cultura. Matera da tempo si definisce città della cultura, però sappiamo tutti bene che ci sono molti problemi. Allora in questo sta la scommessa di Matera, partire da quello che lei pensa essere cultura e cercare di riflettere insieme a che significa veramente fare cultura. Io non ho la risposta e penso neanche Matera ce l'abbia ancora, però questo è il percorso da fare. Secondo te invece Matera può avere una risposta nel considerarsi città e non paese? Stesso discorso, da 50 anni a questa parte Matera si chiede cosa significa essere città, lo vediamo dai sassi, lo vediamo nei quartieri moderni, lo vediamo nei quartieri anche periferici. Matera si chiede, ed è paradigma di questa domanda, cosa è città e cosa è cultura? Quindi un tema forte che potrebbe spingere Matera a questa ambizione di capitale europea? Il movimento del pensiero. Il movimento del pensiero all'interno di questi due assi, che sono cosa è cultura e cosa è città. Quindi in conclusione, per l'area d'auria Matera è? A parte bordello, riflessione, capacità di autoriflettersi, però Matera cos'è? Matera è in completezza, Matera è in completezza del pensiero alla ricerca di se stessa. Quindi non riuscendo a completare nel migliore dei modi Matera è, ma voler dare uno spot, quindi un motto, per Matera invece candidata a capitale della cultura 2019. Presa di possesso del proprio destino. Grazie. Grazie. Grazie.